Le feste si avvicinano. In tanti ci ritroveremo a fare spese nei centri commerciali e dopo alcune ore di shopping massacrante sarà dura non fermarsi a mangiare un boccone per ricaricare le batterie. Se il service e tavole calde sono sicuramente comodi, prendi al volo qualcosa e continui a girare per negozi, ma senza una chiara strategia in mente queste soste possono essere un disastro per chi sta attento alla dieta. In genere, quando ci si siede a un tavolo si è affamati, stanchi e stressati, una condizione che può renderci più deboli di fronte alla tentazione di cibi consolatori pieni di calorie. Spesso ci autoconvinciamo di meritarci qualcosa di speciale per avere macinato chilometri da un negozio all'altro. Per prima cosa, attenetevi al vostro consueto modello di alimentazione. Se normalmente a pranzo mangiate proteine e verdura, cercate della verdura cotta o un'insalata greca accompagnata da pollo alla griglia. Se siete abituati a mangiare un panino, cercate un banco dove potete scegliere cosa mettere dentro e fatevi preparare un panino pieno di verdure e proteine magre. Fate di tutto per non cedere ai menù tutto compreso. C'è sempre qualche piatto di troppo e l'immancabile bibita ipercalorica. Può essere conveniente per il portafoglio, ma non per il corpo, che finisce per ricevere molti più grassi e zuccheri di quelli preventivati. Spesso i punti di ristoro dei centri commerciali offrono anche un'ampia scelta di cucine e specialità etniche. Cercate quelle che possono darvi quello che volete. I banconi con le insalate sono ottimi, a patto che consentano di personalizzarle. I ristoranti ispirati alla cucina giapponese, mediterranea e cinese possono essere un buon punto di partenza, perché di solito usano tanta verdura e proteine con pochi grassi. Fast food e pizzerie non sono necessariamente un tabù, ma entrateci con in mente un piano ben preciso. Un hamburger semplice o un trancio di pizza con verdure e un'insalata possono andare bene, ma non fatevi tentare da contorni ipercalorici o pizze con condimenti grassi. Lo stesso vale per i cibi messicani. Se riuscite a stare alla larga dalle fritture e fate a meno di condimenti ricchi di calorie come panna acida e montagne di formaggio, potete placare l'appetito con insalate e tacos. Un altro suggerimento. Se avete in programma una maratona tra i negozi, non riducetevi ad avere una fame nera. Fare shopping non è esattamente un evento sportivo, ma se vi aspetta una giornata di shopping intenso, portate con voi un piccolo spuntino per bloccare la fame sul nascere e non rimanere a secco di carburante. Una barretta alle proteine o un frutto possono rifocillarvi durante i vostri giri e probabilmente, quando arriverà il momento del pranzo, avrete la mente più lucida per fare scelte oculate. Grazie a tutti.